Io ritengo che la scelta di quel pezzo più si... Prodi ha già una storia diversa dalla mia, ha una cultura politica differente, poi vengo a Prodi, però dico il pezzo mio, D'Alema, Bersani, Speranza, quella roba lì, se ne sono andati su una linea che è la negazione della loro storia e della loro cultura politica. Cioè D'Alema che fa il nuovo Corbyn, fa un po' ridere da questo punto di vista, perché la storia e il profilo di D'Alema è l'opposto. Fermo restando che io penso che Corbyn sia un leader che avrebbe studiato un po' di più di come viene raccontato. Però il modo in cui invece viene utilizzato a modello da questa presunta nuova sinistra è caricaturale e fanno la caricatura di se stessi, perché quelli che hanno fatto le liberalizzazioni, le privatizzazioni che hanno fatto approvare il pareggio di bilancio in Costituzione, si è cambiata la fase, ma loro sono quelli. Quindi diciamo oggi si mettono sulla linea della Costituzione una sinistra di testimonianza senza ambizione di governo, quando la loro storia era l'opposto. Io ero dalemiano, perché D'Alema andava a fare a capocciate quei girotondi, oggi me lo ritrovo a fare i girotondi con Flores d'Arcais, non sono io che ho cambiato, non sono io che ho smarrito la mia cultura politica, è lui.